La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di 1TV, andiamo a guardare insieme le principali notizie di oggi. Iniziamo con il mattino. Pensioni, prestito per tutti, questa è l'apertura, il governo stanzia 1,5 miliardi, possibili restrizioni su no tax area e quattordicesime per pensionati, uscite flessibili fino a 3 anni e 7 mesi per statali, privati e autonomi. Le interviste del mattino, a Cazzola ok per gli esodati ma non conviene a chi ha un lavoro. Di taglio alto, Rio 2016, l'Italia dei cecchini, Campriani e Doro e il calciomercato, svolta Gabbiadini, pronto a restare e arriva anche Rog. Centropagina, sì al referendum, urne a novembre, riforma costituzionale ok della Cassazione, Renzi non è una sfida su di me. L'analisi, un sì o un no che riguarda tutti gli italiani e il focus e le province tornano al voto nel silenzio. Ancora centropagina, il retroscena, raid in Libia, allarme, nuovi sbarchi, convocato il Comitato per la Sicurezza. Di taglio basso, bimba colpita da una pallottola e giallo capua. I genitori, inseguiti di notte dopo uno screzio, fermato un uomo. E infine, Akihito, Ratzinger, il sollievo dell'addio, l'imperatore del Giappone, Abdica, sono vecchio, difficile proseguire. Questa la prima pagina. In primo piano, la sentenza, riforme via referendum ed è subito bagar sulla data, disco verde della Cassazione, le opposizioni al governo, decidiamo insieme. I comitati per il sì, raccolti oltre 88 mila euro, al via il mototour dei 5 Stelle per il no. E la linea di Renzi si decide sul futuro degli italiani, non sul mio. La strategia della modestia dai primi frutti, sondaggi ok e più interesse per i quesiti. Le trattative, probabile la scelta del 27 novembre dopo la legge di stabilità, minoranza dem, ultimi assalti all'Italicum. Andiamo avanti con i focus del mattino. Sì, no, forse. La pattuglia dei Volta Gabbana. Da Benigna e la Camusso, ecco, politici e VIP folgorati e pentiti sulla via della Boschi. L'attore, quindi, si riferisce a Benigni, entusiasta, sostenitore delle novità, poi ci ripensa e infine distingue tra mente e cuore. E l'intervista al politologo Pasquino, che dice se sarà bocciato il premier da Mattarella e un nuovo voto di fiducia in Parlamento, di missioni, si va dalle urne il prima possibile e si continua a lavorare per il Paese. Lo scenario, quindi, non esiste il rischio di deriva autoritaria, ma il sistema bicamerale ha funzionato. Ancora in primo piano, prof, solo il 10% si trasferirà da sud a nord, Giannini, a settembre 32.000 assunzioni. E il sistema, il ministero dice, l'algoritmo è stato contestato, non sono ancora stati riscontrati errori. Passiamo al caso, Giappone, lascia l'ultimo imperatore, sono vecchio, abdicherò Tokyo, l'annuncio di Akihito, che è in carica da quasi 30 anni. Più volte operato, ammesso di non essere più in condizione di continuare. E per quanto riguarda il successore, il via libera al principe ereditario dipenderà da una modifica delle norme. Passiamo all'economia. Pensioni, flessibilità per precoce usuranti, piano da 1,5 miliardi, fondi, si punta a coinvolgere le imprese, no comment di Confindustria. E l'intervista, cazzola, correzioni positive, ma attenti, le risorse possono essere insufficienti. E continua, va rifinanziato l'attuale blocco delle penali per chi lascia prima il lavoro. Per favorire le assunzioni, conclude, non serve accelerare la quiescenza anticipata. La prima pagina del mattino di Salerno, beffa, multe, doppio pagamento, sorprese e disagi per centinaia di automobilisti. L'amministrazione corre ai ripari, correzioni in tempo reale, ritardo nelle registrazioni, valanga di notifiche per contravvenzioni già saldate. Questa è l'apertura. Le infrastrutture, Cilentana, ultima promessa, apre ad ottobre. E il caso, sicurezza aeroporto, pressing sul Biminale. Gli articoli di spalla, Cilento in fiamme, paure, strade K.O., allarme, pirovani, villeggianti in fuga. E il personaggio, Mertens, Roghi, sfregio alla bellezza. E il personaggio, due sgarbi in tour, gioiello certosa, più promozione. Centro pagina, villa fantasma, truffa al turista inglese, contratto di locazione stipulato su un sito online, raggirati, prof universitario e la moglie. Affitto da 10.000 euro per sette giorni di vacanza in costiera amalfitana. Salernitane alle Olimpiadi, Rio Dolciamara, Permandia e Gregorio. Andiamo avanti. Le infrastrutture, quindi. Aeroporto, caos e ritardi in pista, dateci la polizia di frontiera. I Lardi, il ministro Alfano ha promesso il presidio, aspettiamo da mesi. La mentele, quindi, dai viaggiatori per le attese e i disagi patiti all'aeroporto costa da Amalfi. Molti voli charter hanno subito ritardi anche per l'assenza di un presidio fisso di polizia in grado di assicurare tempestivi controlli sulla sicurezza. E quindi, cantiere e voli in linea, in cento pagine, il libro dei sogni. Altri 47 milioni dalla regione con i 40 dello sblocca Italia, ma l'Iter resta accidentato. Il punto, c'è incertezza sui tempi, confronti fra enti e variazioni urbanistiche potrebbero portare via mesi. E l'ambiente, assedio dei cinghiali, caccia grossa nel parco, raccolti distrutti e paesi invasi, pressing risarcimento nel Cilento. Lo scenario, danni e allarmi, spunta l'ipotesi della filiera per carni e insaccati. Quindi la carne dei capi in eccesso potrebbe diventare una risorsa. Queste le pagine del mattino. Proseguiamo con la città. Che dedica l'apertura agli incendi devastano il Cilento. Piromani scatenati tra Palinuro e Camerota, danni ingenti e strade chiuse. Tre ingenti in una notte tra Palinuro e Camerota. In fumo, 50 ettari di macchia mediterranea, nei luoghi simbolo del parco del Cilento. I piromani hanno sfregiato il promontorio della Molpa a Palinuro. La Valle del Mingardo e le colline a ridosso del Cefalo a Marina di Camerota. Con gravi dipercussioni sulla viabilità. Gli articoli di fondo. L'inchiesta. Illeciti anche in opere pubbliche. Abusi da demolire da Salerno il piano antiprescrizione. Ebboli. L'ASL sospende le terapie con centri trasfusionali KO. Centropagina. Morti folgorati. Nuove indagini. E viaggio nei Lidi. Alla ciurma di vietri, feste e aperitivi. Questa è la prima pagina. In primo piano, gli abusi edilizi. Il procuratore generale di Salerno, Primicerio, dice nuove norme contro la prescrizione. Proposta alla Camera. Demolizioni anche solo con l'accertamento del reato. Così gli abbattimenti non saranno più vincolati alla condanna del responsabile. E continua la brevità dei termini in materia. Spesso rende vana la corsa dei giudici e pubblici ministeri. Occorre colmare le lacune. Quindi presso una legge definirà le priorità degli interventi. E accentola il rebus dell'osservatorio. È illegale e pubblico. Il Comune ha avvento i ricorsi contro l'ordine di distruggerlo. Ma l'opera non è mai stata inaugurata ed è preda di vandali. E quindi interviene sull'argomento Tommaso Pellegrino. Quell'edificio non appartiene al parco. Noi presto butteremo giù una struttura adiacente al centro astronomico realizzato a Petina. Proseguiamo con l'immigrazione, quindi l'emergenza. Gabrielli, migranti via da Ventimiglia. La situazione è grave. Il capo della polizia è necessario decomprimere il confine. Ma la morte dell'agenda Turra non è colpa dei no border. Il terrorismo, strage di avvocati in Pakistan, accetta 70 morti e 112 feriti in attacco kamikaze rivendicano i talebani. Vogliamo la sharia. In Turchia invece Erdogan va da Putin per fare la pace e sfidare l'Occidente. Proseguiamo con il nostro territorio. Parco, piromani scatenati, tre incendi in una notte, le fiamme dolose hanno interessato i luoghi simbolo di Palinuro e Camerota. Chiusa la provinciale del Cigliotto con problemi alla circolazione sulla Mingardina. A Sapri e Camerota controlli sui lidi scattano le sanzioni dei carabinieri. Casalvelino, Movida, fracassona, nuovi orari e multe per i locali pubblici. Centropagina, cilentana, lavori finiti entro novembre, sopra luogo dei tecnici col presidente Canfora sul viadotto. L'opera è al 45%, riusciremo a farcela. Montesano sulla Marcellana, centrale Eterna, ordinate nuove indagini. E infine Sassano, comune, paga gli stipendi a quattro operai della Ergon. Queste erano le pagine della città con cui si chiude la prima parte della nostra rassegna stampa. Diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Proseguiamo con le pagine di Le Cronache. L'apertura. I malpacisti De Luca Junior ha invaso il nostro campo. Continua la polemica politica al comune, mentre anche Galdi si tira fuori, dissapori con Sorrentino. Noa, Pestolano, la protezione civile, ancora Maretta, Trastasi e Gallo. Di taglio alto. Salerno è deceduto Carmelo Di Napoli, il figlio degli alieni. E l'ASL non paga lavopi volontari stanchi di anticipare i soldi. Centropagina, a Liberti, collegate alla mala, chiedete a Lombardi e a suo padre. Ancora centropagina, mondo biliardo, il borsino dell'anno, Bene, Sinno e Pepe, Agropoli. Cavallo legato ad albero, muore di fame e sete sotto il sole. Castellammare, Biagio Vanacore, confermato al vertice della Sint. E Capaccio, primi indagati per la morte di De Nigris e Martino. Questa è la prima pagina. Andiamo avanti. Con stazione elettrica di Montesano, il GIP dispone ulteriori indagini. La decisione comunicata nelle scorse ore fa seguito ad una richiesta di archiviazione. In primo piano, Salerno, De Luca Junior cerca la quadra, ma il bersaglio è lui. Molti dissidi a Palazzo di Città sono sorti dopo la nomina d'assessore, commissioni, lascia anche Galdi. Da completare lo scacchiere quindi delle commissioni, oggi il quadro definitivo prima della pausa estiva. Dopo Ferragosto, l'insediamento degli organismi consigliari e moderati. Guido milanese deve fare da paciere politico tra Stasi e Gallo. I verdi restano alla finestra. Polla, falsi i certificati. Il Comune rivuole indietro il contributo. Si tratta di un cosiddetto contributo sociale che il Comune di Polla aveva erogato con formula una tantum. Gli accertamenti della finanza hanno smascherato l'inghippo. Già avviate le procedure con un provvedimento a firma dei due responsabili dell'area e del servizio. Capaccio Pestum, rubate le offerte alla Madonna del Granato. Ancora Capaccio Pestum, sconcerto per la seconda vittima dell'incidente di Gromo. La gara di solidarietà per stare vicino ai familiari di Martino. Agropoli, un cavallo legato a un albero, muore di fame e sete. Polla, guida dopo aver assunto droghe, 32enne denunciato. E infine Campagna, la scommessa dei giovani che non scappano e lanciano la sfida al mercato con nuove idee, fra tradizione, famiglia, lavoro e start-up per amore del territorio. Queste le pagine di Le Crona, che passiamo a Metropolis. L'apertura, impiegato con il vizietto. Salerno, funzionario IMSS, aveva i file pedopornografici sul computer. La procura individua il responsabile e si appresta a chiedere il processo. Di taglio alto calcio, Rebus campo per la sfida con il Pisa. Salernitana senza stadio, si va verso il ritorno al vigorito di Benevento per la gara di Coppa. Fabiani decide la Lega dove giocare, pressing sul mediano giurico. Centro pagina. Caso Scafati, il caro Aliberti, le indagini le fa l'antimafia, non noi, scrive Gigi Casciello. Salerno, Fornelle, uccise il suocero, vuole la libertà. Ancora Salerno, il blitz, mercato ittico, maxi sequestro. E Salerno, le nomine, commissioni, resa dei conti. Lo sport, sport e impianti. Salerno in crisi, bacchettate dal sole 24 ore. Ancora Salerno, prostituta, soffocata, test per bitagliano. E Baronissi, fuochi molesti, nuova denuncia. Ponte Cagnano, anziani tra gli escrementi, degrado e abbandono, salvati due sessantenni. Battipaglia, debiti del comune, motta va all'attacco. Cilento, cocaina e turisti, guai per dieci giovani. Eboli, moglie pestata, mi opprimeva. Questa è la prima pagina. Andiamo avanti. In primo piano, la ricchezza nelle province di Napoli e Salerno, in base ad un'indagine del sole 24 ore. Vediamo. Castellammare ferma il palo e l'area torrese resta depressa. Poche note positive ai piedi del Vesuvio, bene la penisola sorrentina, ma i dati potrebbero essere falsati dal fenomeno dell'evasione. Capri, quindi la città più ricca della Campania. Conca cresce del 9,3%, Pompei non decolla. Salerno. Salerno almeno resiste, continua la crescita anche se a piccoli passi. Si allarga la forbice sociale ed economica, reddito medio sotto i 20.000 euro. Il capoluogo di regione si aggrappa al reddito di cittadinanza. Quindi Napoli è una delle metropoli più povere, reddito medio e più alto in altre 1.384 città dello stivale. Salerno invece goda di ottima salute, almeno stando ai dati del fisco. Viene dopo Capri e Caserta, è la terza città della Campania. I più ricchi d'Italia invece vivono a Portofino. E continuiamo con la politica, burocrazia, la scure di De Luca, meno dirigenti e uffici periferici. Nel documento di economia e finanza, misure per migliorare l'efficienza amministrativa. In agenda anche la riduzione dei fitti passivi per un ammontare di oltre 3 milioni. Salerno non è una provincia per sportivi. Il salernitano si piazza in zona salvezza nella graduatoria del sole 24 ore. La mancanza di campi e di organizzazione costringe i talenti ad emigrare. 75esimo posto, Salerno e la sua provincia si piazzano quindi in zona salvezza nello speciale report del sole 24 ore. Poche stelle negli sport individuali, soltanto 10 province peggio nel 2015. Il salernitano si piazza al centesimo posto, tiene il basket. Gli esplodi agropoli e scafati hanno permesso alla provincia di Salerno di ottenere il ventunesimo posto. Queste erano le pagine di Metropolis. Proseguiamo con la nuova. Il titolo di apertura è una congiura di potenza. Riforma sanitaria, proseguono i mal di pancia. Al Lago Negro c'è un piano per far morire quest'area. Animato confronto sull'ospedale unico e sul piano B della regione per un nuovo padiglione. C'è chi vuole essere il capoluogo del deserto. Centropagina. Marsi così dota di ambulanza così non aspetteremo il 118. Rimaniamo sul centropagina. Tornava a casa dopo qualche giorno a Melfi. 56enne travolto da un camion. Vacanza trasformata in tragedia sulla A14. E ancora coro di no per un esodo vergognoso. In tanti pronti a licenziarsi pur di non lasciare i figli e famiglia. A potenza la protesta dei docenti esiliati dalle graduatorie ad esaurimento. Matera. Bed and breakfast nel mirino denunciati titolari di due strutture per mancata registrazione degli ospiti. PD polveriera. La gente mi associa a chi pensa alla poltrona. Si dimette il segretario cittadino di Picerno Caivano. Di Taglio Basso. Balvano a freschi abbandonati. Di Maio scrive al ministro. E infine lo sport. Potenza. Esplode la contestazione. Serie D. Quindi i tifosi scendono in strada. Vangone e Bertolomo meditano l'addio. Basket. Bauer gelata. Accolto il ricorso della Virtus Roma. Niente di pescaggio in serie A2 per la società Bianca Azzurra. Questa era la prima pagina di La Nuova con cui si chiude la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro buona giornata. Questa era la prima pagina di La Nuova con cui si chiude la nostra rassegna stampa. Questa era la prima pagina di La Nuova con cui si chiude la nostra rassegna stampa.